È una conferma del lavoro che facciamo giornalmente e quindi penso da tanto valore a quello che fanno i ragazzi e alla fatica che ci mettono anche mentalmente per far entrare un'identità di gioco in così poco tempo e quindi oggi usciamo dall'architolina e con tante certezze sappiamo che c'è ancora tanto da lavorare perché comunque sia non è stata una partita facile quindi ci sono stati alti e bassi anche durante la partita però i ragazzi oggi escono di qua consapevoli di quello che sono e di quello che stanno diventando in solo le tre settimane partendo praticamente da una squadra con pochi giocatori e quindi tanto merito all'ora e l'ora che stanno facendo Viste nelle prime uscite abbiamo visto inevitabilmente una squadra molto squadra